Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continuiamo a parlare di color correction e continuiamo oggi parlando di color correction secondaria Abbiamo visto nello scorso tutorial come iniziare una color correction in Adobe Premiere con il pannello colore lumetri Abbiamo visto ancora prima che cos'è una color correction e oggi andremo avanti cercando di capire come fare una color correction Cosa vuol dire? Vuol dire che se io volessi illuminare un pochettino il castello che è un po' troppo scuro sullo sfondo per dargli importanza Se dovessimo utilizzare gli strumenti che abbiamo visto fino ad oggi rischierei di aumentare la luminosità a tutta l'immagine E non è quello che voglio, io voglio solo schiarire un pochettino questo castello In questo caso dobbiamo utilizzare la color correction selettiva Perché appunto va a selezionare una porzione di immagine, non tutta l'immagine nel suo insieme Questo vedremo quest'oggi, prima però vi ricordo come sempre www.fabioambrosi.it Sito dove troverete anche gli articoli connessi a queste video lezioni E se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche le prossime lezioni del corso di montaggio video con Adobe Premiere Bene, color correction secondaria, cosa vuol dire? Come farla? Allora, innanzitutto una buona notizia Una buona notizia perché Premiere nella versione 2018 ha introdotto uno strumento molto utile tra le curve per fare la color correction secondaria Lo vedremo tra un istante Qual è lo strumento classico che veniva utilizzato prima dell'introduzione di queste curve? Bene, era proprio questo che viene chiamato HSL secondario Ed è un tool che trovate sempre all'interno del pannello Lumetri Color Come potete vedere che ci permette di selezionare un colore, un range di colore su cui puoi andare a lavorare Ipotizziamo, come abbiamo detto per esempio, di voler aumentare la saturazione solo dei pixel azzurri, blu O meglio, che vanno dall'azzurro al blu Come fare? Ecco, io clicco su questo bottoncino Ok? Oppure clicco sul blu direttamente Vedete che Premiere mi seleziona già un range di colori, no? I colori che vanno da un azzurro acceso fino ad un quasi violetto Ok? Fantastico Come possiamo vedere quello che è stato selezionato? C'è un bottoncino, come potete vedere Eccolo qui, lo sto selezionando in questo momento Che si chiama colore grigio Cosa succede? Ci clicco sopra Vedete che Premiere mi mostra solo i pixel che verranno interessati dalla color correction Che stiamo per fare in questa sezione del pannello colore Lumetri Vedete che se io muovo questo slider Vado per esempio sul verde Premiere mi evidenzia solo i pixel che sono sul verde Non vi fate confondere dalla presenza di queste nuvole Perché chiaramente io ho selezionato anche i pixel molto chiari Io posso andare a restringere il campo sulle pixel un pochettino più scuri Vedete che sono stati selezionati solo i pixel più scuri dell'immagine Torniamo al punto di partenza in cui eravamo Per quello che è il nostro scopo direi che va abbastanza bene Abbiamo deciso di selezionare solo i pixel di questa tonalità Posso chiaramente come potete vedere cliccando su questa freccettina aumentare Ok no Vediamo se così si Non funziona Ecco il bello della diretta Allora dicevo posso aumentare cliccando su questa freccettina il range di colori da selezionare Da selezionare o posso chiaramente restringerlo Questo sta a quelle che sono le mie finalità Posso sfumare un pochettino i contorni della selezione Come potete vedere che sto facendo adesso E posso tentare di applicare questo filtro che serve un po' per ridurre il disturbo Ecco il disturbo in quando si fa la color correction Spesso Ho anche chiamato rumore Spesso nasce dal fatto che L'immagine originale su cui si sta lavorando Non ha una qualità eccellente Qui la mia raccomandazione Quando si fa color correction Di farla chiaramente sulle immagini Alla qualità maggiore Maggiore possibile Però ecco c'è questo filtro Riduzione di disturbo Che ci può forse aiutare A controllare l'eventuale disturbo Che può essere generato Quando si applicano queste color correction secondari Dicevo Dopo aver selezionato il range di colori Che vogliamo modificare Spengo il mio selettore Guardate cosa accade Se io per esempio vado ad aumentare la saturazione Vedete sto aumentando la saturazione Solo dei pixel che avevo selezionato Qui In questo Con questo bottoncino Ok Per esempio Vogliamo Mandare questi pixel Un pochettino verso il verde Non ha molto senso Però è quello che posso fare Vedete I pixel selezionati In questo momento hanno una tinta Un pochettino più verde Ipotizziamo al contrario Non so Di voler fare la stessa cosa Però per esempio Con il prato Come fare Clicco sulla selezione del prato Però è accaduto già qualcosa Avete visto che è accaduto Che la saturazione mi è stata spostata Dall'azzurro di prima Al verde del prato Questo non è quello che vogliamo Ecco Eccolo ancora Il giallo meglio ancora Questo range che va dal rosso al giallo Questo non è quello che vogliamo Io che vuol dire Che posso applicare Un effetto alla volta Attenzione Assolutamente No Qui entra in gioco Il pannello Controllo effetti Perché Quando ne applichiamo O modifichiamo Qualunque parametro Del pannello Colore Colore Lumetri In realtà Premiere Aggiunge un effetto Vedete Al pannello Controllo effetti Di fatto Noi stiamo utilizzando Un effetto Di Adobe Premiere Ed essendo Il pannello Il pannello Colore Lumetri O meglio Il colore Lumetri Un effetto Vero e proprio Possiamo trattarlo Come tratteremmo Qualunque Tipologia Di effetti Ok Quindi posso Duplicarlo Posso rimuoverlo Con cance Vedete ho rimosso La color Che avevo poco Anzi fatto La possiamo ripristinare In un secondo Vedete che viene Automaticamente Riaggiunto L'effetto Però dicevamo Io ho modificato Adesso il colore Non il verde Ma il giallo Che era più Evidente Tutti i colori I colori Che vanno dal rosso Al giallo Dando più saturazione Ma ho perso La modifica fatta Sull'azzurro Del cielo Come risolvere Dicevamo che Essendo questo Un effetto Tra le cose Che posso fare Posso duplicarlo Quindi Control C Control V E mi ritrovo Praticamente Lo stesso effetto Duplicato Il consiglio Chiaramente È quello di nominare E rinominare bene Le cose in Premiere Così poi Da sapere sempre Che cos'è Un determinato elemento E che cosa fa Quindi tasto destro Sopra un effetto Rinomina Possiamo chiamarlo Colore Terreno Oppure anche solo Terreno Ok Questa cosa possiamo fare Con l'effetto sotto Vogliamo che Questo effetto Sia responsabile Delle nuvole Sullo sfondo Dell'azzurro O meglio ancora Lo rinomino Chiamiamolo per esempio Azzurro Oppure nuvole O cielo Come preferite voi Non ha veramente importanza L'importante è che voi siate poi Consapevoli Di che tipo di effetto State modificando E usiate una convenzione A voi nota Bene Adesso A questo punto Io se vado in cima Al pannello Colore Lumetri Noterò Un menu Questo menu Mi indica Quale Degli effetti Che io Ho qui Nel pannello Controllo effetti Relativi Al colore Lumetri Sto modificando In questo caso Io vado a modificare Questo che è il primo effetto L'effetto Che ho chiamato Terreno Ma Abbiamo già fatto Una color correction Sul terreno Io mi concentrerò Sulle nuvole Seleziono La voce nuvole Relativa appunto All'effetto Nuvole E a questo punto Posso andare A selezionare Il colore Azzurro Di prima Modificare La saturazione Ma in realtà Essendo una copia Già i parametri Sono gli stessi E così Potete vedere Che abbiamo Con un colpo solo O meglio Con due colpettini Ecco Modificato Il colore Del cielo Aumentando La saturazione E aumentato La saturazione Del terreno Selezionando Solo i pixel Che andavano Dal rosso Al giallino Ok Questo è l'utilizzo Diciamo Della color correction Secondaria Con il vecchio strumento Presente Sempre qui Nel pannello Colore lumetri Però io vi ho detto All'inizio Che c'è un nuovo strumento Introdotto da Adobe Nel 2018 Se non ricordo male Sì 2018 E di questo strumento Ovvero lo strumento curve Parleremo Nel prossimo Video tutorial Mi raccomando Non mancate Iscrivetevi A questo canale Youtube www.fabbiambrosi.it Per leggere L'articolo Di questa lezione Ciao Alla prossima